Con che spirito le tormento dovreste? Di riscatto rispetto all'inizio del 2015? Nel 2015 abbiamo vinto il televoto, poi per una serie di cose è chiaro che è terzo posto, ci siamo, va bene così, insomma siamo contenti perché poi abbiamo fatto un bel tour nei mesi successivi e quindi quella è la cosa più importante per noi, per tutti, tutti e 24 gli artisti, è chiaro, fare concerti, avere i nostri fan e i nostri concerti. Nel 2015 possiamo dire, posso dire a noi tutti e tre, che abbiamo vissuto tanto e sentito tanto l'amore per la propria patria, tenere la bandiera in mano è stato davvero molto emozionante, ma soprattutto eravamo lì a Viena ma non ci sentivamo soli perché abbiamo ricevuto tantissimi messaggi e tantissimi voti da parte di tantissimi paesi, soprattutto degli italiani, anche perché sembra a volte che ci si vergogni, il fatto di chiamare un nazional popolare, il fatto della bandiera italiana, sembra che ogni volta ci vergogniamo nel nostro paese, quando invece non solo nella musica ma in tante altre cose cerchiamo sempre di fare gli internazionali o di invitare gli altri quando in realtà possiamo essere davvero originali essendo italiani. A presto! A presto! A presto!